Una web community a livello mondiale che sarà un utile strumento di lavoro per produttori e suonatori di Fisarmonica, dove i musicisti troveranno spazio, notizie, occasioni, tutorial e tradizione sotto l'insegna della cultura del Mantice, intorno a Castelfidardo, alla sua storia e alle sue potenzialità turistico-culturali. È in sintesi il nuovo progetto www.theaccordionist.it, un nuovo portale dedicato al mondo della Fisarmonica per far incontrare appassionati, suonatori e produttori. L'eccellenza della Fisarmonica di Castelfidardo ormai è consolidata, però proprio perché consolidata la dobbiamo valorizzare e la riteniamo un'eccellenza marchigiana insieme ad altre che va rimpinguata, va rafforzata. Ognuno di noi cerca di rafforzarla nel proprio assessorato a seconda del DNA dell'assessorato. Quindi per quel che mi riguarda io credo che debba continuare a lavorare sul ricambio generazionale perché è estremamente difficile ed è difficile far appassionare un giovane ad un artigianato così particolare perché questa è una manifattura d'arte di eccellenza, però quando prendi la passione poi non la si lascia, questo è un dato di fatto. The Accordionist è una community online progettata per fisarmonicisti e per costruttori di fisarmoniche, diventerà uno strumento utile per promuovere il territorio, la cultura del mantice e per avere sotto mano tutto quello che è il mondo della fisarmonica, dei fisarmonicisti in ogni parte del mondo, quindi per essere più pervasivi e più efficaci sia nella comunicazione che nella distribuzione degli strumenti musicali che si producono in questa zona. Il progetto è stato finanziato con il Fondo Sociale Europeo attraverso un bando della Regione che ha messo a disposizione il 50% del budget previsto, quindi un progetto che ha un valore di 150 mila Euro totali e l'idea è venuta fuori proprio analizzando gli strumenti che l'Europa e la Regione mettono a disposizione delle aziende, soprattutto in un bando che unisce artigianato e cultura. Il futuro 4.0 della fisarmonica non può dunque che partire dalla sua patria, Castelfidardo, dove l'industria di questo antico strumento e l'artigianato hanno rappresentato il fulcro economico e storico di questa comunità. Il progetto porterà Castelfidardo ancora di più nel cuore e nell'animo dei fisarmonicisti di tutto il mondo e soprattutto sarà un volano di sviluppo per il turismo culturale del territorio.